Tenevano in ostaggio addirittura la sua figlia neonata di pochi mesi per costringerla a prostituirsi e a non scappare. Una neonata in ostaggio per costringere la madre a prostituirsi. E questa è la brutta vicenda portata alla luce dei carabinieri della stazione di Cologne dopo la segnalazione di uno dei clienti della Lucciola. L'uomo, un cinquantenne bergamasco, aveva raccolto lo sfogo della ragazza, una 23enne rumena, sulle sue condizioni di vita e sulle continue violenze subite e ha deciso di avvisare i militari. In manette sono finiti un 33enne albanese e la sua compagna, 18enne rumena. Era stata la ragazza a far arrivare in Italia la giovane madre, dato che sono originarie dello stesso paese e avevano già lavorato insieme in Grecia. Quando questa, alla fine di maggio, le ha offerto un lavoro a Brescia, la giovane donna non ha avuto dubbi ed è arrivata a Cologne. Poi, la Mara Verità. Le cose per i due sono molto gravi perché parliamo sia del sequestro di persone, della riduzione di schiavitù e dell'induzione alla prostituzione. E in qualche caso, addirittura, si sospetta che l'albanese, suo cozzino, l'abbia anche violentata più volte. Durante il giorno la ragazza era segregata nell'appartamento di via Castrezzato, costretta a subire percorse e violenze, mentre la sera portata a Bolgare, dove si vendeva sulla strada. La bimba di soli tre mesi veniva affidata ad alcuni albanesi che avevano il compito di tenerla in ostaggio per evitare che la madre fuggisse. La ragazza era stata chiesta di 10.000 euro per essere liberata e per poter tornare in Romania. Addirittura, oltre ai 10.000 euro, le era stato anche chiesto di reperire altre ragazze che la potessero rimpiazzare.